Book, il festival della letteratura per ragazzi, giunge quest'anno alla nona edizione dedicata alla musica, o meglio, alla musica nei libri. Il titolo è accattivante, i musicanti di Book. È la terza edizione che io presento come presidente, ma diciamo che Book è una costante, ci sono succeduti negli ultimi nove anni tre presidenti, ma dal momento in cui è partito è una delle attività, uno degli appuntamenti principali della fondazione, destinato solo a crescere, quindi non solo ad essere una costante, ma a crescere. È in grado di coinvolgere tutte le scuole di Foggia ormai, molte della provincia, numerose famiglie, migliaia e migliaia di ragazzi interessati, e a coinvolgerli in un quadro di attività molto articolato, che comprende di solito incontri con gli autori, laboratori, mostre, e anche spettacoli. Quest'anno poi gli spettacoli musicali non potranno mancare. Siamo convinti, e non può che essere così, che anche quest'anno la manifestazione sarà un successo, è qualcosa di molto prezioso per la città di Foggia e la sua provincia. Grazie.